Siamo a San Cesario per la presentazione ufficiale delle casse d'espansione del Panaro che verrà esposto qui appunto a Villa Boschetti nella sala consigliare di San Cesario. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Siete tutti invitati a restare perché il programma prevede iniziative anche nel corso della giornata e nel pomeriggio. Il tema di questo convegno è il ruolo delle casse di espansione e dell'illuminazione del rischio idraulico e in modo particolare della casse di espansione del fiume padano. Noi credo tutti sappiamo quanto sia vulnerabile per le caratteristiche naturali che ha questo nostro territorio della provincia di Modena che è fortemente esposto a rischi di allagamenti e di alluvioni. Basterebbe ricordare se potrebbe nel corso solo degli anni dopo il secondo conflitto mondiale per ricordare il 51, il 60, il 66, il 69, il 72, il 73, l'82 sono tutte date che ci ricordano purtroppo che parte del nostro territorio è stato oggetto di alluvioni, di allagamenti dovuto allo straordinamento dei corsi d'acqua nel territorio modenese. Se vedete però per fortuna gli ultimi eventi calamitosi di una certa importanza datano oltre 17, circa 17 anni fa significa che in sostanza le iniziative, le opere idrauliche che sono state messe in campo in questi anni stanno dando i loro frutti. Basterebbe ricordare anche l'ultimo degli eventi, un evento straordinario, anche questo, quello del 7 di novembre sono caduti, adesso non ricordo bene, ma diversi in pochissime ore, millimetri di pioggia che hanno ingrossato in poche ore tutti i nostri torrenti e che hanno creato anche danni contenuti nonostante ci siano stati, proprio perché, per esempio, il completamento delle casse di espansione del Panaro ha permesso di svolgere quella funzione propria e quindi di trattenere una parte di permettere a valle anche delle casse di espansione di continuare a fare entrare l'acqua proveniente dagli altri corsi d'acqua minori, a partire dal Chiepido o dal Guerro, che sono corsi d'acqua che ci hanno sempre fatto conoscere problemi, soprattutto nella parte che riguarda la città di Modena. Quindi credo che con soddisfazione noi dobbiamo oggi rimarcare questo, i lavori della cassa di espansione sul Panaro prevedono che possiamo guardare avanti con fiducia, sappiamo che su questo poi ce lo diranno i tecnici e gli esperti, a volte si rischia, guardando delle previsioni a lunga distanza, poi si rischia di dover rivedere le proprie posizioni. Credo che un esempio per noi è rappresentato dalle casse di espansione del Secchia che in occasione dell'inaugurazione, giustamente sulla base di quello che era lo Stato in quel momento si disse abbiamo risolto in modo definitivo il problema e quindi i rischi di alluvioni o di allagamenti nel territorio che stava della cassa di espansione. Poi il modificarsi del territorio, il crescere dell'antropizzazione dei territori ha fatto sì che oggi, da qualche anno, diciamo che queste casse hanno bisogno di una ulteriore espansione per rispondere meglio ai problemi costituiti da questi corsi d'acqua. Quindi dicevo, a volte può sembrare, fare delle previsioni può essere rischiosi, però credo che qui siamo di fronte ad un'opera, ad un intervento che in termini anche di risorse, qui vedremo, voi ce lo diranno soprattutto i tecnici e coloro i responsabili che interverranno successivamente, insomma abbiamo fatto un'opera che risponde alle esigenze, come dicevo, viene questo è stato possibile certamente per l'impegno del magistrato per il Polo, per l'impegno dell'autorità di vaccino, per un impegno però che ha visto lavorare in modo stretto e collaborare in modo efficace direi l'autonomia locale, la provincia, dei comuni interessati, San Cesario, il comune di Modena e realizzando anche in modo congiunto dei programmi che hanno previsto questi interventi che poi sono andati a realizzazione. Oggi siamo di fronte ad una modifica anche di queste responsabilità, le responsabilità verranno posti in capo anche, si differenzieranno rispetto all'attuale sulla base della legislazione nazionale e della legislazione regionale che è venuta avanti soprattutto in questi ultimi anni e in questi ultimi mesi. Credo però che sia necessario continuare in questa direzione, sia indispensabile, oggi abbiamo un piano anche qui che riguarda di completamento di una serie di interventi che riguarda il nostro territorio, che è stato concordato tra l'autorità di vaccino, il magistrato per il po' la regione e le autonomie locali, abbiamo bisogno di continuare, di realizzare questo programma e di continuare in questa direzione. Fra l'altro restano anche degli interventi che sono in via, che sono avviati, che stanno per essere avviati, che riguardano le sponde del Panaro anche a valle della cassa di espansione qui di San Cesario e la necessaria, come dicevo prima, il necessario ampliamento della cassa di espansione del Secchio. Credo però che questo sia, come dicevo un giorno importante, del quale dobbiamo giustamente cogliere questa occasione, ed è stata questa, mi pare giusta, più che fare una grande solo iniziativa di festa, che vuole essere anche questo, ed è giusto che sia anche questo, cogliere questa occasione per farne un momento di riflessione, per fare un momento di attorno ai temi dei rischi, in questo caso per vedere quali sono le politiche e le iniziative che devono essere in campo, devono essere messe in campo e quali sono anche i comportamenti che i cittadini debbono tenere di fronte a... quindi credo che la scelta sia stata, sia una scelta giusta, quindi non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno aderito, con entusiasmo, che porteranno il loro contributo a questa iniziativa, a questa riflessione, credo molto utile e opportuna, come dicevo, e quindi dando la parola, per un saluto al sindaco di San Cesario, Lorena Vignani, prego. Signor Presidente, cari cittadini, vi porgo un caloroso saluto di benvenuto a San Cesario a nome dell'intera comunità. L'ultimazione dei lavori di potenziamento della cassa di espansione del fiume Panaro rappresenta il raggiungimento di un importante traguardo nella garanzia della sicurezza idraulica della media e bassa pianura modenese. Tale presidio, sorto assieme a quello del secchio del secchio, con lungimiranza e originalità, ci consente di scondurare episodi alluvionali, quali quelli subiti dalla nostra pianura negli anni 66, 72, 73 e 82. Esprimo quindi la mia personale soddisfazione e ritratto ovviamente quanti tecnici, amministratori, politici ed enti hanno concorso al raggiungimento di questo importante risultato e che oggi in buona parte sono in questa sala presenti. Questo risultato è oggi ancora più apprezzabile perché si inserisce in un quadro di pianificazione di vaccino del fiume Po, il piano strato per l'assetto idrogeologico, che riporta a sistema il problema della sicurezza idraulica, collegandolo correttamente ed incentibilmente al più generale problema di dissetto idrogeologico, di compresa l'area puntata. Questo piano tiene inoltre conto dei fenomeni di erosione dei corsi d'acqua, della necessità di potenziamento delle opere di difesa, dell'importanza della loro manutenzione e del monitoraggio, del necessario collegamento alla pianificazione territoriale, urbanistica ed all'area. A tale ultimo proposito è particolarmente significativo il collegamento che infatti effettua nei confronti del recupero e di valorizzazione della naturalità e della rinaturalizzazione delle regioni di lussuriano. Colgo l'occasione per salutare il signor Presidente del Magistrato per il Po che è appena arrivato. A questi importanti e coinvisibili obiettivi ritengo occorre aggiungere, in rispetto alla legge galli, l'importanza della promozione della difesa ed incentivazione degli usi plurini dell'acqua, quale risorsa e non più come calamità. Su questo solgo pianificatorio si sta muovendo il Comune di San Cesario, consapevole che occorre sposare i principi di solidarietà e di solidarietà tra tutti gli enti coinvolgono, l'autorità di Bacino, il magistrato per il Po, la regione inizia a Romagna, la provincia e il Comune, per riuscire ad ottenere risultati importanti come la cassa di espansione che oggi celebriamo. Noi riteniamo che occorra fare insieme alcune urgenti azioni per l'ulteriore e continuo miglioramento dei già non modelli di sicurezza ragioni. Un'azione di progettazione per la tutela, il recupero e la valorizzazione dell'intera fascia fluviale che, compresendo la cassa di espansione, arrivi almeno a Marano il panale, in riferimento alle previsioni del piano paesistico e del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente. In tale progetto dovrebbero anche essere approfonditi gli sviluppi idraulici esistenti, precisando e concordando nell'ambito del paese in itinere eventuali interventi strutturali di difesa e di manutenzione degli istituti. In particolare andrebbe ridefinito il ruolo idraulico delle vecchie difese spondali in calcestrutto, i cosiddetti muraglioni costruiti dal 1925 al 1930 e le improbabili garantie di sicurezza che oggi forniscono, nonché la loro eventuale sostituzione con opere adeguate, almeno per i tratti fluviali fiori. La cassa di espansione e le fasce fluviali possono rappresentare inoltre una rilevante opportunità per un recupero ecologico, naturalistico e ricreativo di una porzione importante della pianura modenese ed importante per gli altri, sia locali, provinciali e regionali. In tale direzione si sviluppano i lavori di progettazione preliminare per la trasformazione a parco fluviale dell'area dei lati di Sant'Anna, di cui oggi sentiremo alcune idee, prime idee di progettazione. Quale stimolo costruttivo ad un lavoro molto più impegnativo da condurre in accorso e collaborazione con gli altri enti coinvolti ed interessati. In tale logica il Comune di San Cesario non esclude, ma anzi condivide e promuove forme associate di gestione italiane con altri simili presenti in provincia di Modena. È contante ed aspettative che vi ringrazio per la presenza e vi auguro un proficuo lavoro per il seminario odierno. Grazie Sindaco. A questo punto è previsto il saluto del Sindaco di Modena che è in arrivo, quindi direi di passare alle relazioni. La prima, scusandomi con i relatori, ma abbiamo deciso, siccome lo spazio è anche qui, credo che anche in sala non è, le presenze sono superiori alle previsioni e di questo ne siamo molto felici. Dicevo, scusandomi con i relatori, ma di volta in volta li inviteremo a salire qui sul palco. Iniziamo con Ugo Maione che è docente al Politecnico di Milano che ci parlerà dei principi generali degli interventi idraulici, le casse di espressione. Grazie. 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 Presidente, Presidente del Magistratto, signore e signori, un saluto cordiale. Io ringrazio i ragazzini di questa giornata per aver invitato a parlare di un tema sul quale sono meditando e lavorando da molto tempo, sia a livello tecnico-scientifico, sia a livello professionale istituzionale. Istituzionale in quanto io sono il coordinatore di una sottocommissione del comitato tecnico dell'autorità di fascino del BO, la commissione a setto idrogeologico che si occupa dei problemi che ha illustrato il sindaco e che tra i quali comprendano che questi problemi ci sono quelli di individuazione dei conti dove realizzare le casi di espansione e delle modalità di progettazione delle stesse, come tutti i problemi attinenti da questo tema. Io devo fare una relazione di carattere generale, mi è stato dato una ventina di minuti, 20-25 minuti, spero di essere nei tempi, se per caso sto sfondando mi date segno in modo da rientrare in essi. Io inizierò questa mia chiacchierata con una citazione di uno studioso tedesco della fine del Settecento. Allora, leggiamo assieme. I fiumi non sono i migliori vicini, come amici testardi stanno tranquilli finché vi si tratta in modo educato e rispettoso. Non appena si interferisce troppo da vicino con le loro faccende personali, difficilmente possono trattenersi da fare vendetta. Grande sforzo e molto denaro vengono spesi per canalizzare i fiumi e per forzare a cambiare la loro direzione di moto. San parte delle spese avrebbero potuto essere risparmiate in un momento in cui ci possiamo andare prima a scuola nella natura stessa e imparando i modi e i metodi usati dalla natura per compiere gli spaventosi cambiamenti che possiamo osservare i fiumi. Colui la cui conoscenza è così limitata che né conosce le cose del fiume, né come possono essere determinate, né come potrebbe farne uso al proprio vantaggio, dovrebbe a tutti i corsi le stare a montare la fiume. Questo lo scriveva un ingegnere auspiero nel 1785 e come vedete sono espressi dei pensieri di una sorprendente attualità. Purtroppo però pochi anni dopo la scuola idraulica tedesca inter-europea ha manifestato idee completamente diverse per queste e ha provveduto a sistemare i grandi corsi d'acqua europei, comprese alcuni corsi d'acqua italiani, con criteri completamente opposti, cioè canalizzando i fiumi e quindi venendo o meno a queste indicazioni da lì a vostri ero. In particolare, scusatemi se comincerò prima, che è dove sia importante per capire poi bene la funzione delle casse di espansione. In particolare questa è una planimetria del 1827 del fiume Reno, in prossimità di Amistrasburgo, il fiume Reno aveva una morfologia di questo tipo, ambi, molto grandi e a un certo punto fu sistemato questo pozzo d'acqua che presentava, questo lo faccio vedere perché credo sia interessante, un aspetto di questo genere, è un dipinto del 1844, l'aspetto dell'euro, all'euro era questo. Fu sistemato per rispondere alle esigenze dell'epoca, c'erano esigenze di navigazione, esigenze di guadagnare aree vicine ai fiumi per espansioni di tipo industriale, oltre che urbano e anche per ragioni di natura igienica, in quanto quelle aree erano affette da varie. Il progetto realizzato da l'ingegner Tullo, un famosissimo ingegner tedesco dell'epoca, si presenta oggi con tutta una serie di modifiche che sono state condotte in questo modo, c'è un albero completamente ristretto, costretto a defluire, un fiume costretto a defluire, un albero molto ridotto, molto stretto, canalizzato, il quale, la quale sistemazione, quale ha? Il lungo andare ha dato luogo a due gravissimi problemi, problemi di erosione, l'interbassamento del fondo, crollo di arginature e soprattutto incremento delle portate, incremento molto elevato delle portate che ha reso necessario progettare degli interventi importantissimi lungo l'ambio del fiume, quindi con la rinforza di arginature, di arginature e soprattutto la previsione di costruzione di gas e di espansione. Infatti sulle erano sono state realizzate due sul territorio francese e progettate 14 sul territorio tedesco proprio per far fronte alle esigenze derivanti da una pessima visione progettuale, pessima però lo diciamo oggi, all'epoca non c'erano le conoscenze così approfondite come le abbiamo oggi, soprattutto le esperienze che abbiamo fatte in questi anni e all'epoca magari avranno progettato queste opere in piena coscienza di fare, non sapevano di fare del bene e cioè di consentire il bene all'epoca significava, eravamo in piena rivoluzione industriale, significava di quella. Una di queste casse di espansione che è stata realizzata, quella che vedete rappresentata in questo trasparente e questa è la planimetria, il reno lo vedete nella parte bassa e la cassa di espansione è alimentata da una batteria di sifoni, sono questi sifoni e quindi non avviene automaticamente l'invasione dell'acqua, della cassa, ma avviene con l'innesco dei sifoni, con l'innesco dei sifoni non è legato ai livelli dell'acqua, viene comandato in qualche modo meccanicamente. Questa è una fotografia della cassa francese e questa è una fotografia dei sifoni di alimentazione della cassa stessa. I sifoni consentono una elasticità di una elasticità di gestione della cassa notevole, perché come è stato accennato anche stamattina dal sindaco, i problemi delle casse di espansione, ovviamente la funzione primaria è quella idraulica, quindi quella di difesa idraulica del territorio, però le casse possono avere anche altre funzioni e comunque hanno delle esigenze di carattere naturalistiche, di rispetto dell'ambiente, magari di trasformazione dell'ambiente ma in una precisa dimensione. Per questa ragione diventa fondamentale la leggevazione anche delle acque della cassa, cioè per esempio per la gestione delle aree umide che sicuramente ci sono all'interno della cassa, poter graduare, poter gestire, portare in modo adeguato potrebbe consentire di ottenere il risultato di un certo rilievo. Dunque, faccio un passo indietro. Abbiamo visto allora che questa sistemazione idraulica che sono state date in passato, a partire dall'Ottocento, non passato recente, è passato antico, hanno determinato questi scompensi, questi squilibri idraulici, in particolare incremento delle portate che associate all'aumentato valore delle aree, delle aree fluviali per il fatto che l'area è fluviale, quindi di basso valore economico, diciamo, si sono trasformate in aree appetibili per l'industria, per l'insediamento urbano. Questi due fatti messi assieme hanno incrementato notevolmente il rischio dell'aria. Io volevo ricordare che per rischio in generale, anche se non concordo esattamente su questa definizione, ma comunque è una definizione efficace, per rischio si deve intendere il prodotto di tre fattori. Un fattore è la probabilità che si verifichi un evento, cioè l'evento di allagamento di un'area, per esempio. L'altro fattore è il valore dell'area esposta, che è un fattore fondamentale. Un'area che non ha nessun valore, uno non si preoccupa molto più di tanto, e l'altro è la probabilità dell'area, che un'area può essere invasca dalle acque e essere vulnerabile o viceversa. l'area è aumentata. Allora, aumentando il valore dell'area e aumentando la probabilità che si verifichi certamente, quindi a partire dall'epoca in cui sono state effettuate queste sistemazioni, è aumentato notevolmente il rischio e quindi i problemi che abbiamo sentito parlare stamattina. Problemi idraulici, no, di sicurezza, ma sono problemi anche socioeconomici fortissimi, no? Evidentemente. Allora, per risolvere questi problemi, questo è un trasparente preso dal pari dell'autorità di Pascino, perciò si vede quali sono le misure strutturali e tipo intensivo. Allora, da un mixing di queste varie misure, si ricava poi l'optimum, no? Di cui l'elemento fondamentale è la pianificazione, chiaramente. Ecco, nelle misure strutturali e tipo intensivo, come vedete, è indicato verso la fine il bacino di un'asse di varie azione, perché l'elementazione è stata fatta in un certo modo. Di fatto invece questo provvedimento rimane il più importante di tutti, di fondamentale importanza, e intanto risponde a una logica che è più o meno connessa allo sviluppo storico che vi ho fatto vedere del peggioramento della situazione di Fondovano, di Piazza del Considaccio, c'è lo spostamento del rischio da monte verso valle, questo è il fenomeno generale. Cioè il fatto che avendo canalizzato i fiumi sono state sottratte le aree di espansione al fiume stesso, quindi quella capacità di laminazione naturale delle portate che una volta veniva essercitata bene, no? Dei fiumi stessi. E quindi il ragazzo di espansione modifica, cerca di ritornare, di far ritornare in qualche misura, ovviamente, come possibile, la situazione idrologica, idraulica, naturale, a quella che era antecedente alla realizzazione di questi interventi di sistemazione non proprio ottimali dei fiumi stessi. Poi ci sono anche delle altre ragioni. Se non si riducono le portate per ridurre il rischio di valle, quali sono i provenimenti alternativi? I provenimenti alternativi possono essere sovratto di argini, incremento delle sezioni. Ora sovratto di argini, incremento delle sezioni, presenta numerosissimi inconvenienti, per esempio di garantire naturalistici, naturalistici. E' per questo, no? Cioè di divisione, di divisione, di separazione dell'ambiente dell'ecosistema fluviale dall'ambiente esterno, che è una delle cose che si tenta di ridare in tutti i modi, infatti molti interventi di reaturazione dei fiumi che si vanno a crescere nel mondo, hanno anche come obiettivo questo. Quindi c'è un peggioramento di natura ambientale, ma anche di natura idraulica, per le ragioni che abbiamo visto pensando, ricordando quello che era successo sull'Ema, come d'altra parte si potrebbe dire per molti dei grandi fiumi italiani. Cioè si sistema a monte un fiume, si incrementa la sezione, si alzano gli altri, si fa sì che tutta la portata rimanga contenuta nell'ambio, più a valle aumentano le portate chiaramente perché non ci sono le zone di allagamento a monte, più a valle succedono poi i disastri che succedono. Allora credo che non esista altro modo per affrontare praticamente il problema che quello di ridurre le portate. E queste si possono ottenere soltanto attraverso odiche di laminazione, noi sappiamo che le diche non le vuole più nessuno, le diche sono molto alte, non si è per ragione di sicurezza del territorio, ma si è per ragione di ridurre ambientale, e poi se ne possono fare poco, ma risolvono le costruite. Invece nel paese sono disponibili grandi aree di espansione nei fondovale per le zone di Tavura, il rio possibile realizzare queste opere importanti per le ragioni che dicevo poco fa. Dunque le casse di espansione, qualche cosa di natura tecnica, poco perché credo che gli uditori non siano tutti i tecnici, no? Ci saranno un po' di tecnici, un po' di politici, amministratori e a... Le casse di espansione si dividono in due categorie, in due tipologie. Quella che vedete qui è la cosiddetta casse in linea, è tipo un parato, per intenderci no, è il corso d'acqua che viene sbarrato, viene sbarrato, a terzo si crea una capacità di imbarlo e allora l'onda di piena si imparte durante il suo evolversi nel tempo, si immagazzina temporaneamente nel bacino, si ottiene attraverso questo sbarramento e in questa, mi dispiace di non averci un pennarello, ma insomma credo che più o meno si capisca, in questo processo di temporaneo immagazzinamento dell'onda di piena nel bacino che si crea a monte si ottiene l'abbattimento del suo colmo. Un'onda di piena ha una portata massima che è la portata di colmo, perché ha un certo valore e a questo punto se quest'onda di piena si immette in un bacino che ha una certa capacità, l'onda si allunga nel tempo di molto e allungandosi per questione di continuità, di conservazione dei volumi, delle masse, i colmi si abbattono e si ottiene poi, e di quanto si abbatte il colmo? Il colmo si abbatte, questo viene definito in sede progettuale, di una quantità tale per cui la portata residua, cioè quella che fa male, è compatibile con il sistema idrografico. Se la portata è di X mille metri cubi secondi si abbatte all'800-700, è una portata compatibile con la situazione idrologica di Val. Quello che vedete qui è una di queste casse realizzate negli Stati Uniti, molto grande, molto importante. Poi ci sono le casse invece in derivazione o miste, ecco le casse in derivazione, come quella del secchio, secchio in parte e in linea in parte in derivazione. In derivazione significa che c'è un sbarramento sul fiume che solleva l'acqua, ma il volume che si immagazzina a tempo è piccolo, non è granché. Però poi esiste un'area di allagamento su una delle sponte, nel caso particolare, le sponte a destra, cioè quello del disegno, intendo dire. E c'è una soglia che viene trascimata dalla corrente, che presenta un livello più alto anche perché esistono il parlamento, e si riversa in quest'area che può essere allagata. Può essere allagata e poi viene restituita a valle con delle aberture solitamente regolabili. Ecco, queste casse di espansione, soprattutto nelle zone in cui gli albi hanno una discreta tendenza, cioè non sono proprio piatti come adesso di fondo valli, nelle aree di pianura hanno un reggimento notevolmente superiore a quelle delle precedenti, delle casse in linea, non qui che quello che vedete, la cassa del secchia, quel del secchia è sbarrato e poi c'è un'espansione laterale che è una classica cassa in derivazione, che viene alimentata, un po' come avete visto comunque la cassa sul reno, viene alimentata dal fiume per trascinazione. Nel caso del reno vi erano dei sifoni che venivano innescati, che vengono innescati quando è necessario fare lo sversamento dell'acqua, nel caso della cassa del secchia viene automaticamente. Apre una parentesi sulla cassa del secchia, è stato scoperto uno studio, ritengo di notevole interesse. Questi politecnici arrivano su indichi, chiamavano la commissione, chiamavano in giunta, dell'autorità di Pecino per cercare di trovare la situazione, l'ottimizzazione del volume in relazione agli obiettivi che si vogliono e anche in relazione alle caratteristiche biologiche del fiume stesso. Ecco, qui è indicata una cassa di espansione è un'ipotesi di realizzazione di casse a settore, mi pare sul stando, credo, ma insomma era un'idea per l'autorità. Così queste sono casse in derivazione, definite nel modo che avevano detto poco fa, cioè alimentate non attraverso l'allamento ma attraverso delle soglie laterali, qui non sono neanche indicate, essendo un disegno preliminare, non di individuazione di aria più che altro. Ecco, che problemi esistono nella progettazione delle cose? Ho accennato i problemi di natura ambientale, ho accennato il sì che mi ha fatto molto piacere, è rilevante la cosa, è molto rilevante. Molto rilevante perché c'è quest'area di grande dimensione che se non è gestita bene, se non viene curata attentamente può diventare, dal punto di vista ambientale, qualcosa di negativo per il territorio, mentre invece le potenzialità della cassa, dell'area che c'è l'interno sono notevolistiche, sono rilevanti, anche se devono essere utilizzate con molta attenzione per evitare poi problemi in rischio per le persone che non ci stanno dentro, per eventuali verificarsi improvviso di piene. Questi bacini hanno queste caratteristiche, i piene sono abbastanza labili, veloci. Ecco, ritornando alla cassa sul Reno, una delle più che ho visitato, c'è una grandissima cura, hanno realizzato molte aree umide, hanno immesso una quantità enorme di specie animali, particolari ci sono perfino peccano online, insomma comunque bestie di questo genere, è curata appunto luce del... l'antui, come si chiama la cultura, non quella del luce, e hanno messo delle... hanno messo delle pane di vario tipo, insomma hanno fatto interventi molto importanti, molto impegnativi anche sul piano economico. Però, ecco, questa e quell'area viene visitata, per esempio, moltissimo da scolaresche, fortissimo loro didatti, moltissimo da scolaresche, associazioni culturali di vario genere, e stanno solo molto attenti a evitare che venga visitato da persone senza che ci siano delle guide a posto, sia per evitare danni alla gassatezza, sia per evitare pericoli, rischi, anzi che qualche persona potrebbe rimanere all'inserzo della cassa, poi magari si verificano lo spessamento di danni e si potrebbero venire dei danni. Quindi uno dei problemi importanti è quello dell'utilizzazione dell'area, della cassa della cassa. Poi ci sono i problemi di natura idraulica, i problemi di natura idraulica non sono di poco rilievo e devono essere attentamente valutati, sono otto del mio tempo, devono essere attentamente valutati in relazione, per esempio, a un fatto fondamentale che spero venga compreso con poche parole, poche notazioni di carattere tecnico-scientifico, sono le seguenti. L'abbattimento del colmo di piena che usualmente si cerca di attuare attraverso queste opere è dell'ordine 20%, 30%, qualche cosa del genere. Certo ci sono dei casi in cui si fanno anche delle casse molto più ampie, alle quali viene richiesto una rivoluzione molto più forte, ma diciamo che già 20-30%, 15% è già un numero. Per esempio, alcune casse che sono via di progettazione sul tagliamento viene richiesto un abbattamento del 10%, 4.400-4.000 metri cubi al secondo, perché i 4.000 è la portata ritenuta accettabile nel reticolo idrografico privato. Ora, come gli ingegneri idraulici, in particolare gli idrologi, conoscono, le approssimazioni con le quali si possono stimare le portate naturali di un fiume solo dello stesso ordine di una pizza, cioè che noi non è che sappiamo complici di una che è la portata di centonate di totte metri cubi al secondo. Abbiamo una stima che è giusta, può essere errata in difetto, ma potrebbe essere anche errata in eccesso, di la stessa quantità del 20-30%. Allora, se incrociamo questi due numeri, vediamo che effettivamente la progettazione di una casse di estanzione è una cosa molto delicata, perché, in assenza di obbligazioni di regolazione, se si fa una stima in eccesso della portata di piena e si progetta l'opera, per esempio una cassa in derivazione, in base a questa stima in eccesso, c'è il rischio che questa cassa non si consumi mai, cioè non entra in funzione l'opera di sfiume, perché il livello più basso del livello di progetto, no, previsto in progetto, è più alto di quello che in realtà si può avere. Naturalmente c'è l'esperienza che sotterisce tutto questo, si conoscono bene le cose, si osservano il territorio, si osservano i dati e le cose non stanno così tragicamente come lo espressi in questo nome. Sicuramente no, alla stima della portata di piena, o per l'idraulico conseguente, che consente di passare dalle portate ai diversi, se si sbaglia sulla resistenza dell'alveo, anziché avere una certa altezza di acqua prevista in progetto, se ne ha uno o più piccolo o più alto, quindi con variazioni di più. Tutto questo potrebbe essere sistemato se si prevedesse la realizzazione di sistemi mobili di regolazione, delle portate, perché? Perché in una maniera leggera eventuali errori, ecco, mettiamo una sicurezza di vista prima, eventuali errori si potrebbe rimediare attraverso la regolazione delle separazioni che sarebbe maggiore elasticità di sistema. Però questo, nei fiumi, è anche un grosso problema, perché? Perché innanzitutto i fiumi trasportano materiali costanti, materiali soliti, eccetera, non è come una diga, gli organi di scarico di una diga, di scarico di superficie, l'acqua è limpida o quasi, non danno grandi problemi. Sui fiumi potrebbe esserci qualche problema legato, non so, ma poi la regolazione, le manovre da effettuare alle apparecchiature elettromeccaniche per fare la regolazione e le regolazioni eseguite con rapidità. È notevole, soprattutto quando i tempi sono tanto più ristretti, quanto più piccoli sono i corsi lati. Quindi se abbiamo dei tempi caratteristici, formazione dei piedi di alcune ore, diventa problematica la gestione del partito. Non è problematica se attorno, e vengo al nocciolo del discorso, se attorno alla cassa esiste una capacità gestionale di elevatissima tecnologia oltre che competenza. Questo è un fatto fondamentale, è un problema che mi pare a Silvi molto, interessa moltissimo il Presidente Reale. Io credo di aver consumato il mio tempo, magari questo progetto che mi ritrovo qui, trasparenti, questo anche il dettaglio. Questo è una vita anche loro. Queste riguardano, sono tre fotografie che riguardano la cassa di espansione del Secchia, con dei particolari, le opere di dissipazione che si sono a forma alla base, subito a valle delle luci di fondo. Questo è un dettaglio delle bocche di alimentazione. Ecco, questo invece è interessante perché una illustra per la stessa cassa un modello fisico realizzato da Patola, per la stessa cassa del Secchia. Si vedono i due sfioratori laterali, la travesse le opere di vita. Questa è la stessa cassa e lo stesso modello di funzione. Ecco, ci teniamo a proiettare questi traduci per dire che queste opere vanno progettate con l'ausilio anche di prove su modello fisico, sono fondamentali. Modelli di scala ridotta, no? E' eseguiti presso istituzioni specializzate, istituti specializzati di ricerca. Ecco, questo fa vedere come funziona su un modello, ed è stata fatta in sede di progettazione della cassa, come funziona la cassa ed è importante per definire bene i dettagli costruttivi del governo. Quello che vedete qui è una BB, è venuta molto male, è la vostra cassa di espansione, quello sul Panaro. Qui ci trovo, si venuta molto male la fotografia e la cassa. Le opere di dissipazione vale delle bocche, questo è il grande. E' l'opera nel suo compresso che viene inaugurata oggi e faccio tanti auguri a tutti e alla cassa anche. Grazie per l'ascolto. Grazie professore. Diamo ora la parola all'ingegnere Luciano Moratti, la storia delle casse di espansione nel territorio modenese. Poi non so come vi alternate, come vi integrate con l'ingegnere Paolo. Io cambio l'ordine che avevo inteso dare alla mia esposizione perché desidero integrare alcune delle cose che sono state dette egregiamente con molta sapienza dal professor Maiocchi. Per dare continuità al discorso, per una maggiore comprensione da parte di tutti. Ecco, volevo dire che quando progettavamo agli inizi negli anni 70 la cassa di espansione del Secchia, per esempio l'ingegnere Ferretti, l'ingegnere di Monti, tutte persone che diedero un notevole apporto alla progettazione, si partì proprio dal concetto, che sto riprendendo dalle ultime considerazioni del professore, di creare un dispositivo che funzionasse automaticamente senza bisogno di un intervento decisionale da parte di chi che sia. Perché, detto con tutta schiettezza, non avevamo sufficiente fiducia nell'autorità tecnica anche nostra, nella possibilità, diciamo, di arrivare tempestivamente a decidere in accordo anche con tutti gli intercutori possibili, le amministrazioni locali, le popolazioni, in piedi che si manifestano con estrema rapidità, nel tempo di qualche ora dall'annuncio, bisogna che le decisioni siano immediate. Questa è la realtà dei nostri corsi d'acqua, che sono riferenti naturalmente dal reno, che ha un vagino enormemente superiore. I tempi di formazione di un'onda di piena da noi sono dell'ordine di 7 ottobre, erano di 15, 16 ore, 40, 40 anni fa, si sono dimettate drasticamente per le modifiche che il territorio ha scritto. In 7 ottobre bisogna decidere quello che si deve dare, sapendo che il colpo di piena trasferterà all'inizio delle tratte erginate, entro le 10 ore e avrà un decorso poi al massimo di una giornata nelle tratte successive fino a concluenza. Se in questo frattempo occorresse discutere, fare un comitato tecnico, discutere tra 3, 4, 5 persone, sentire le cose del testo, il tizio che ha il sembronio, accordarsi con l'autorità politica, sentire l'opinione delle popolazioni e magari anche dei comitati civici, è chiaro, come si farebbe il numero della piena, esulterebbe un disatto. Quindi l'intento progettuale che era la base dello studio della Cassa di Espansione del Secchia era fare un qualche cosa di studiato attentamente, di articolato, di utile, ma che potesse funzionare indipendentemente da una valutazione decisionale. E mi sembra che i risultati si abbiano dato ragione in quella specifica realtà. Poi tutte le cose sono perfettibili e anche questa, interraria esattale. Vorrei anche, mi permetto, signor Presidente, di integrare anche alcune cose che ha detto lei. Da parte di qualcuno si pensava che la Cassa di Espansione del Secchia, e successivamente quella del Panaro, potessero rappresentare gli interventi conclusivi. Ma noi abbiamo sempre detto, parlo di noi, qui per esempio, abbiamo sempre detto a chi ci diceva, fatte le casse e non ci pensiamo più. No, assolutamente, non è così. Fatte le casse bisogna fare altre cose, bisogna completarle, bisogna tenere in manutenzione, in gestione, verificarle, ampliare, modificare, perché questi sono i principi dell'idraulica fluviale. Sono principi sanzionati, sanciti, scritti addirittura dal professor De Marti nella relazione conclusiva della commissione istituita dal governo all'indomani dell'annunione del 66 che lei ha ricordato, giustamente, e che anch'io mi proponevo di ricordare, perché l'idraulica fluviale è fatta di queste cose, il professor De Marti ha scritto delle parole che dovrebbero essere stampate e scritte in lapidi da affiggere in tutti i municipi e non solo ammesso, dando per scontato, e non è che tutti i tecnici queste cose le sappiano. Le sistemazioni fluviali sono un continuo divenire, un qualche cosa che deve adattarsi continuamente, come diceva quel professore, quell'ingegnere tedesco del Settecento, con delle bellissime parole, al modificarsi, all'evolgersi della natura, assecondando la natura, facendosi insegnare la natura sulla base di tentativi che devono procedere per approssimazioni successive, fare un qualche cosa che disturbi il minimo possibile il sistema fluviale esistente, per poi assecondarlo man mano che gli eventi procedono e che ci insegnano in da farsi. Mi diceva il professore Maione che anche l'ultimo evento che lei ha ricordato, dei primi di novembre di quest'anno, ha permesso di tarare gli studi scientifici che il professore stesso con i suoi aiuti è andato conducendo in questi ultimi tempi, trovando un incidente tra i dati, mi riferisco al secchio, tra i dati di studio seguiti, in maniera evidentemente molto approfondita e l'evento che si è manifestato. Diciamo qualcosa a me stesso? No, no, la mano scena che il mondo è anche arrivato. Sì, ecco, quindi mi premeva fornire queste precisazioni per mostrare come ci sia una continuità tra quello che è stato pensato o fatto e che ancora si dovrà fare in seguito. e volevo anch'io ricordare gli eventi catastrofici che ci sono stati nel 1960, nel 1966 principali e altri successivamente. Nel 1966 ci fu l'evento che sconvolse, come sappiamo, il territorio doscano, Firenze e Venezia. Ci furono due casi trattanti di importanza mondiale, la resonanza fu per l'importante delle due città mondiali. Però questa meteora che girò sull'Italia settentrionale, simbolicò nella pianura padana, lasciò un segno molto importante anche nel territorio modenese, come ben ricordiamo, perlomeno ricordiamo noi più antiani, perché il pubblico è fatto di molte persone giovani che queste cose forse le hanno soltanto sentite raccontare o nemmeno questo. Quindi io ricordando questi eventi vorrei proprio chiamare l'attenzione di tutti sul fatto che le memorie degli eventi vanno conservate, vanno coltivate. Chi perde la memoria di quello che è successo perde molto. Questo ce lo sentiamo dire anche in campo storico, politico, io lo dico in chiave tecnica, per quello che mi compete. Guai a chi dimentica il passato e non trae frutto l'insegnamento da quello che è accaduto per imparare e per applicare tutti questi insegnamenti all'avvenire, al futuro. È una distruzione di professionalità, di capacità, del lavoro eseguito. Quante cose abbiamo visto fare per cui essere abbandonati? Questo è il maggiore dei delitti che si possa compiere da un punto di vista tecnico. do una certa enfasi al mio discorso perché avendo vissuto per decenni tutte queste circostanze le ho sempre sentite come una cosa mia. Io partengo di una generazione che quando sentiva piovere contava le gocce e passava le notti insonni attendendo la telefonata o senza attendere la telefonata per poi correre su e vedere quello che succedeva. Questo mio richiamo lo faccio un particolare calore perché ritengo che sia fondamentale per tutti e in questo momento vi rivolgo anche agli amministratori ricordare queste vicende e tenerle sempre presenti nelle memorie non informatiche. Nell'animo per non adagiarsi sugli allori, ammesso che gli allori qualcuno ne abbia potuti ricevere, insomma non adagiarsi sulle cose fatte, non riposare sulle cose fatte, come un po' è avvenuto anche a Modena e non solo a Modena negli ultimi decenni. Parlo di un ambiente, di una provincia dove le istituzioni sono attive, sono operanti, sono esemplarmente efficaci perché l'hanno dimostrato con difficoltà di iniziative, ma se anche da noi è successo che per almeno 15 anni dopo la relazione della Cassa sul Secchia e quella del Panaro ci sia stato un periodo di pausa che per me è stato troppo lungo, se anche a Modena è successo questo, figuriamo che cosa è successo altrove. No, queste sono cose che non si devono fare, ci deve essere una vigilanza continua. Quando io cominciai interessare delle cose modenesi, alla fine degli anni 60, a cavallo tra 60 e 70, c'era un'attenzione nell'opinione pubblica che era straordinaria, i giornali tutti i giorni scrivevano qualche cosa a proposito delle vicende che sconvolgevano e che interessavano il territorio modenese, leggiamo soprattutto il territorio modenese, anche quello quanto vanno perché erano problemi di tutti, ma insomma, siamo a Modena e parliamo di Modena. Io direi che c'erano degli atteggiamenti addirittura feroci nei confronti dei pubblici amministratori e dei tecnici. Io sono arrivato a Modena con l'ingegnere Garbio Civile nel 72, dopo avere però già studiato i problemi del modenese e dopo pochi mesi ricevete una comunicazione di garanzia, allora si chiamava comunicazione giudiziale, se non ricordo male, insieme al Presidente del Magistrato del Pochi, al Professor Rossetti e al Presidente Fava, che era un ingegnere caldo prima di me. Io poi potei essere ben liberato dagli oneri di questa vicenda dopo un anno, ma non subito. Il Professor Rossetti venne inviato a giudizio e parte di un'eminente studiore, una persona che come adesso ricorderò ebbe per primo l'idea di fare la cassa di espansione sul Secchia, dirò alcune cose che credo abbastanza interessanti a questo proposito. Vennono giudicati, vennero giudicati, perché questo era quello che si voleva, si volevano trovare dei responsabili subito di cose che però avevano una radice antichissima, perché c'era stata una guerra più mezzo, un dopoguerra nel quale bisognava ricostruire e i fiumi erano stati infascurati oggettivamente per qualche decennio, quindi colpe di persone non c'erano e la giudizia riconobbe che non c'erano state. Però l'opinione pubblica voleva delle persone contro le quali venissero presi dei provvedimenti, voleva delle responsabilità, ricercava tutti i costi. Poi anche l'opinione pubblica, vedendo che alle parole seguivano i fatti, rapidamente cambiò l'atteggiamento e trovammo già nella stagna, oggettivamente parlando. Quindi dicevo l'evento del 66, l'evento del 66 provocò delle rocce nel secchio del Panaro, contemporaneamente dall'una e dall'altra parte con l'allagamento, guardavo un po' di carte, giorni scorsi di quasi 20.000 ettari, ma già nel 60 erano stati allagati 20.000 ettari in territorio e non sono territori quelli modenesi dove non ci sia niente, sono territori fortemente atropizzati, allagare un ettaro significa già oggi creare dei danni incredibili perché ci sono sempre dei paesi di mezzo, ci sono delle industrie, ci sono delle coltivazioni. Un tempo quando, è un argomento che io ho spesso ricordato, quando c'erano degli allagamenti nelle zone di piadura, non si cedeva niente, i contadini lo sapevano, si mettevano gli stivati, anzi nemmeno quelli perché camminavano a piedi nudi, mi riferisco alle alluglioni di 50 o 60 anni fa, a maggior ragione di quelle del po' di 100 o più anni fa, aspettavano che l'acqua salisse, portavano i bestiami sui piatti e poi riprendevano la loro vita normale. Questo oggi non può più avvenire, questo avveniva quando non c'era nemmeno la corrente elettrica, ricordiamoci che è stato soltanto in questo dopoguerra che la corrente elettrica è stata portata nella nostra pianura, non dico chissà dove di taglio nel mondo, da noi, nel modenese, nel regione, le linee elettriche sono state costruite per i paesi della bassa modenese, sono costruite negli anni 50, 60, non c'era energia elettrica, non succedeva niente su un po' di acqua andare nelle case, non c'erano beni da conservare, non c'erano assolutamente industriali, i territori della bassa modenese erano considerati agli effetti di legge aree depresse, non dimentichiamolo, oggi sono le aree più industrializzate d'Europa o fra le più industrializzate e produttive dell'intera Europa, perciò oggi non possiamo tollerare degli eventi che a un tempo invece erano assolutamente consueti, assolutamente accettati, oggi no, l'ottica è mutata e quindi anche il rischio, così ben definito la comparte riserva, la sua traduzione prima, anche il rischio idraulico è mutato perché è mutato il valore delle aree e è mutata la vulnerabilità del territorio, è stato manomesso, possiamo dire così, da infinite infrastrutture che nel territorio si sono insediate. Quindi io ho ricordato l'evento del 66, ma voglio ricordare anche quello del 60, quello del 60 credo che non ricordi proprio nessuno, nel 60 cosa successe? Successe il finimondo soprattutto nel Secchia perché ci fu una piena di notevole unità che provocò nel Secchia tre rotte, l'allagamento di 20.000 ettari di territorio tra destra e sinistra del Secchia e ci fu l'occlusione completa del Secchia a Cerredolo di Tovano, a monte della concluenza del sistema d'oro-tragoni in destra nel Secchia, a causa di una prana che precipitò in sponda destra del volume di circa 12 milioni di metri cubi, 12 milioni di metri cubi di trana, adesso io spero che siate in grado di valutare l'entità di un fenomeno di questo genere, che si verificò nel tempo di poche giornate, non fu un crollo come quello del Bayonne per intenderci, però fu una discesa molto rapida con lo scoppio addirittura dei pacchi rocciosi che erano contenuti nei terreni argilosi di superficie, ricorda ancora il rumore, sembrava il rombo del cannone quando si rompevano questi pacchi della potenza di decine di metri cubi, di lì metri di spessore. Il Secchia si occluse completamente, parlo dell'aprile del 1960, e si formò un lago che aveva una capacità che valutava i 35-40 milioni di metri cubi in base, un grosso lago, un grosso lago. Ma questo lago era trattenuto dalla frana, che cosa si doveva fare in delle circostanze, facendo un salasso di Cile, un Cile regolato, in modo che i 35-40 milioni non diventassero 50-60, perché la frana continuava a lievitare. C'era stato anche un movimento geologico di terreni di sedine, di base, per cui il terreno su cui questa massa enorme di materiale era andata a depositarsi, si alzava nell'ordine di metri, a vista d'occhio, perciò il corpo di prana che chiudeva il Secchia si alzava. Si scavava la salanella di superficie per determinare in Cile una buon uscita d'acqua e man mano si scavava tornava a riempirsi, finché si riuscì a determinare una buon uscita continua di acqua. Poi le cose precipitarono, perché queste cose si facevano in assoluta emergenza, lavorando di giorno e di notte, con un parco imponente di macchine per quei tempi, e avvenne uno svaso rapido della quantità d'acqua che era rimasta, non più i 35 milioni di metri punti, ma vennero fatti delle misure vattimetre, che quindi la valutazione è abbastanza precisa. Vennero sfruttati i fondali dell'acqua. E precipitò a valle, in un albe fortunatamente, completamente vuoto, una portata imponente, che si autoregimò da Cerretolo fino a Rubiera, per cui arrivò nella zona arginata con dei valori tollerabili dalle arginature, e le arginature non si riuscirono. Ma erano già venute delle rotte, ricordo la rotta di Sottigalli, che è un nome che dice qualcosa di qualcuno, la rotta di Sottigalli era stata chiusa che si tornò ad aprire, provocando un nuovo allagamento. Immaginiamoci che cosa disse la gente, che cosa pensò, ma l'attenzione c'era, una cosa inevitabile, una rotta che era stata chiusa soltanto per metà, arrivò questa nuova ondata di piena, diciamo artificiale, e provocò nuovi disastri. Finché la questione si conclusa, ma il lago rimase in parte e si pensò sin dall'ora di utilizzato in qualche maniera. L'Ubviso del Tempio Civile di Reggio Emilia a quale allora appartenevo, fece uno studio, facendo uno studio, che preveniva un manufatto di regolazione e di utilizzare il sistema, insomma, per realizzare un sistema di regolazione delle piene, c'era due attuali. Un manufatto a fessura centrale, che attaccato in opportuna maniera risponde, sfruttando anche questa enorme ammasso naturale, permettesse l'utilizzazione della superficie che si era già allagata, non c'erano posti di esprosso, non c'era niente da andare, e facciamo dei calcoli che vennero poi esposti in occasione del primo convegno dei consiglieri Braubici del Tempio Civile del 1963, che non tu sia parlo, nel 1963, che sono atti pubblicati. Si vide che la regolazione della piena a Cerredolo sarebbe stata dell'ordine del 40-45%, ma allora ci disse il professor Rossetti che, come era giusto, come era ovvio, non era quella la posizione adatta per regolare le piene del secchia, eravamo troppo a monte delle tratte arginate, il bacino sotteso, era di 500 km quadrati circa, 550, non ricordo bene, ma ho la memoria. La metà è l'intero bacino imbricolo del secchio, mancava la porta del loro dragone, presi in aria del corsi d'acqua del Rossell, e quindi bisognava portare il sistema Piavalle. Dopo il 66, sul finire degli anni 60, l'inizio degli anni 70, il professor Rossetti mi chiamò a Parma, il suo predecessore, il presidente, uno dei suoi predecessori, e mi disse, è ora di riprendere quello studio fatto a suo tempo, vada a vedere, percorre il secchio e individui una zona dove potrei fare qualche cosa subita a monte dell'età originale. Feci questo sopralluogo, vedi che c'era una zona dove c'erano già degli scavi molto ampi, perché allora si scavava con libertà, c'era già una zona potenzialmente disponibile per fare la cassa, la individuando, facendo degli studi, degli studi, un'indagine sperimentale, facendo un modello idraulico, un modello fisico, gli studi vennero fatti per un paio d'anni, tra il 69, il 70, il 71 vennero pubblicati, è una pubblicazione che esiste, che penso che sia conosciuta dalla maggioranza dei tecnici presenti, e ne furono resti noti i risultati. Si vide insomma che con un opportuno manufatto, quello che è stato sostanzialmente realizzato, si potevano ottenere i benefici nella regolazione delle piene maggiori, nell'ordine del 20-30% delle piene di maggiore entità, con una capacità relativamente ridotta, utilizzando due casse, un'indestra e un'in sinistra, poi quella in destra non venne realizzata, perché era troppo piccola e quindi non vantaggiosa, e si fece un sistema visto con una regolazione parte in albio e parte invece laterale in sinistra. Si fece quello che era possibile fare in quel momento utilizzando le aree disponibili, che erano quelle che ho detto, ma le cose vennero fatte con estrema rapidità. Adesso ricordo anche, voglio ricordare i tempi di realizzazione, occupo troppo spazio nella mia esposizione. Adesso cerco di concludere. Nel 72 e nel 73 ci furono quegli eventi che lei ha ricordato. Nel frattempo l'amministrazione provinciale di Modena, insieme a quella di Reggio, ma Modena era capofila, fece lo studio del piano per la sistemazione idrogeologica del Secchia e del Panaro. Successivamente venne fatto un convegno a Reggio Emilia, nel quale presentammo il primo progetto della cassa di espansione del Secchia. Ci fu un intervento fortissimo insieme governativa e parlamentare da parte degli amministratori locali modenesi, di tutti i parlamentari, e si ottenne la promulgazione di una legge speciale per Modena, che stanziò 10 miliardi di importi, che erano tanti per allora, e che vennero utilizzati per la costruzione della cassa del Secchia e per l'inizio della cassa di espansione del Panaro, che nel frattempo era stata progettata. Volevo ricordare che la cassa del Secchia venne realizzata senza spendere una lira di espropriazione, vennero espropriati soltanto per motivi istituzionali i terreni di sedime dell'arginatura, mentre tutto il terreno all'interno venne reso disponibile tramite una convenzione tra il genio civile di allora e gli operatori economici, regolando le scavazioni in un certo modo, ma regolandola anche abbastanza bene, direi che l'escavazione se è vero come è vero, poi quella è diventata un'area protetta, da anni funziona un consorzio per la gestione della cassa di espansione del Secchia, da tre anni è un'area protetta a tutti gli effetti, si sta già facendo quello che si è fatto in Germania a dimensioni maggiori per l'utilizzazione ecologica di quei terreni. Il Presidente del Consorzio, il Signor Famigli, io sono Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e quindi ogni tanto esprimo anche io le mie opinioni in merito, sono migliaia di studenti che vengono portati sulla cassa l'espansione del Secchia quotidiana sulla zona, sulla zona protetta che è nella cassa e attorno alla cassa e sono decine di migliaia di persone che vengono liberamente tutti gli anni a visitare questa zona umida che viene curata, direi con molta efficacia e con molte buone prospettive. Dico questo perché auspico che anche per l'iniziativa che si intende opportunamente fare nel Panaro, si prendano come credo che la provincia abbia intenzione di fare dei contatti così che non si ricominci dal zero per il Panaro, ma si utilizzi l'esperienza già fatta nel Secchia sulla cassa di espansioni, si colleghino queste iniziative fra di loro per trovare tra una linea comune di gestione e spetterà poi agli amministratori di stabilire quale debba essere. Io avrei altre cose da dire ma è importante che a questo punto l'ingegnere Ferretti dei mostri delle diapositive, da cose che raccontano un po' della storia, io ho cercato brevemente di riassumere, riservandomi magari dire le parole conclusive dopo. Grazie per l'appassionato e interessante intervento, sono arrivati il sindaco di Modena, assessore regionale Cocchi, gli chiederei di venire a sedere qui, se completiamo con questo, era previsto il saluto del sindaco, farei dopo questo intervento perché sono legati questi due. Prego, usa la maniera. Chiuso questo, se possibile forse abbassare questo perché non vorrei che creassi l'acqua. sempre relativamente alla storia della cassa di espansione del Secchia, qui faceva riferimento di Genemorati in precedenza, proiettiamo le studi diapositive che risalgono al momento in cui si iniziano gli studi per la realizzazione della cassa del Secchia. Eravamo in condizioni particolari, eravamo con l'inizio di Genemorati in un momento di particolare tensione dal punto di vista dell'operazione pubblica, c'erano delle circostanze particolari che per certi aspetti dobbiamo ritenere anche sfortunati e fortunati, sfortunati perché è un allungione che si è come detto sfortunato, normalmente questi fenomeni determinano poi il finanziamento o la possibilità di intervenire con delle opere, anche che dal punto di vista strategico hanno più portato in avanti. Eravamo nel 1970-71, ad esempio non esistevano ancora programmi informatici per il calcolo dell'effetto di laminazione delle piene. Esistevano anche dal punto di vista del Secchia l'esigenza di studiare dal punto di vista proprio fisico l'effetto di laminazione delle piene, quindi lo studio del dimensionamento delle opere, lo studio delle quote e soprattutto anche lo studio relativo all'effetto di dissipazione a valle di questi manufatti che segue stato un problema decisamente rilevante. Questo che vedete vedete, magari se spegniamo la luce lo vedete un po' meglio. Questo che vedete è il modello fisico della cassa di espansione del Secchia che fu realizzato su una boleva dell'enza, casualmente in quanto sulla boleva dell'enza esisteva il canale d'enza che tramite l'ufficio del demaglio dello Stato ci forniva l'acqua che veniva immessa a monte. Quello che vedete qui in basso è il sistema che ci permetteva di calcolare il valore delle portate in uscita dopo che attraverso il modello del manufatto di sbaramento l'onda di piena veniva modificata. Quindi a monte veniva realizzata, a monte pioveva, a monte c'era il manufatto che ci permetteva di creare l'onda di piena. L'onda di piena si inseriva nel modello fisico del Secchia che vedete a monte di questo manufatto. In sinistra, qui non si vede, ma in sinistra idraulica, in destra della foto veniva realizzata fisicamente la cassa di espansione e sulla base di questo ulteriore sistema di controllo con uno stramaggio in parete sottile, noi calcolavamo il valore tra la portata in ingresso che era lassù in alto e la portata in uscita che era qui in basso. Se questo funziona, ecco voi vedete qui il sistema con il quale noi a monte realizzavamo le varie portate, non so se a poco la fotografia, l'acqua veniva immessa in questa vasca, c'era un sistema di regolazione e a seconda dell'apertura che davamo a questa bocca abbattente conoscevamo il valore della portata che veniva immessa all'interno del sistema. questo ad esempio è uno dei modelli che abbiamo sperimentato per il secchio, ne abbiamo sperimentati diversi, questo ad esempio prevedeva oltre a una serie di bocche in basso, una serie di bocche anche nella parte superiore, poi si rilevano un sistema particolarmente complesso anche dal punto di vista della realizzazione proprio tecnica per cui si passò ad altri sistemi e ad altre ipotesi di manufatti diversi. Siamo sul secchio qui, ecco questo è un altro manufatto che noi abbiamo sperimentato dal punto di vista della regolazione delle piene di secchia. Vorrei ricordare, anzi vorrei salutare qui il dottor Merloli, segretario dell'autorità di vaccino terreno in quanto in questo momento stiamo studiando assieme all'autorità di vaccino terreno un manufatto del tutto analogo che stiamo sperimentando con l'Università di Firenze proprio con questo criterio, cioè il criterio di una bocca centrale invece delle bocche che poi vedremo realizzate sul secchio come bocche abbattente, queste sono delle bocche che è praticamente delle bocche, è il manufatto che è completamente aperto nella parte centrale e quindi tutto il deflusso viene attraverso la parte centrale. Il problema di questi manufatti è rappresentato soprattutto dall'effetto di dissipazione dell'energia a valle in quanto si era visto che un manufatto di questo tipo determinava a valle un effetto di erosione di a valle è estremamente oleroso, cosa che non avviene ad esempio sul Samogia, Samogia è una fluente del Reno, il Reno nostro, sul palestino a progettare, anzi il progetto è già stato realizzato, è stato approvato e finanziato, andremo in esecuzione e pensiamo all'anno prossimo con un manufatto di questo tipo dove fortunatamente siccome saremo in un tratto ristretto dell'alveo e quindi la dissipazione avviene in un tratto di corrente lenta e quindi diciamo l'evoluzione, la dissipazione avviene in un tratto già all'interno della corrente. Questo dunque fu uno dei manufatti sperimentali che abbiamo utilizzato per la definizione del progetto della cassa di espansione del Settia. Se quello è un manufatto sperimentale, nello stesso periodo, siamo nel 72-73, lo stesso presidente Rossetti del magistrato per il Po, che era già molto interessato a questi esperimenti, finanziò al genio civile di Reggio Emilia, l'ingegnere Capo e l'ingegnere Monti che oggi abbiamo ancora con noi, un manufatto sperimentale, però realizzato in scala 1 a 1, cioè un manufatto per la laminazione delle piene del crostolo. E questo è quello che abbiamo realizzato nel 73 sul crostolo, è il primo manufatto, credo in Emilia Romagna, di manufatto di laminazione delle piene. vedete che ha già le caratteristiche, dal punto di vista idraulico, le caratteristiche delle bocche a battente imposte alla base del manufatto. Questa è una visione vista da valle, si vedono le tre bocche, era come diceva il professor Maione, come si può dire, una cassa di espansione in linea, cioè non c'erano casse laterali, era semplicemente uno sbarramento che determinava e determina, a monte dello sbarramento, determina l'invaso. Questa qui è sempre in fase di costruzione, la diapositiva è quella che è perché risaliamo agli anni 72-73. Questo, in quegli anni, dal 72 al 75-76, assieme a Gemoratti, in genere capo a Modena, progettammo questa e l'impianto della cassa di espansione del Palabra. Poi quella che vedrete poi oggi più abbondantemente illustrata, sulla quale erano già state infatti al suo tempo le progettazioni e furono realizzate con un primo lotto le arginature che poi furono riprese con l'adeguamento che oggi è la conclusione dei lavori che oggi andiamo a vedere. Questa, avete visto anche prima, è l'impianto progettuale della cassa di espansione del Secchia. Inizialmente si prevedeva anche in destra una piccola cassa laterale che poi fu abbandonata perché le sue dimensioni erano troppo modeste e quindi rimase soltanto la parte in sinistra, così come oggi è attualmente visibile in questi giorni. Qui abbiamo alcune diapositive che fanno vedere il momento della costruzione della cassa di espansione, del modo fatto principale della cassa di espansione di Secchia. Quello che vedete a valle sono i dissipatori che anche hanno spessi studiati dal punto di vista idraulico con il modello fisico e che hanno funzionato sempre in maniera ingresa, nel senso che tutta l'energia che viene portata dalle bocche in uscita viene completamente dissipata perché queste specie di ancore separano i flussi di correnti in uscita dalle bocche sia in destra che in sinistra e le due correnti si incrociano, si scontrano e la dissipazione avviene fra due correnti che si incontrano. Questo ecco, qui vediamo il manufatto già realizzato. Le vasche a valle hanno una quota bassa per cui i sistemi di dissipazione sono immersi in 5 metri d'acqua e quindi c'è una parte di dissipazione che avviene anche per l'immersione della vena in uscita all'interno di questa vasca d'acqua a cui le correnti vengono divise e dissipate l'una contro l'altra. Questa è sempre una vista di valle dei manufatti di dissipazione e degli scarichi. Questa è sempre la stessa vista da un'altra posizione. Questo per far vedere come a valle la dissipazione non c'erano più effetti energetici di dissipazione a valle. Cioè quei ragazzi stanno passando in moto a valle per dire che a valle ormai non c'erano più effetti di erosione ma potevano passare perché a valle l'acqua si distribuiva tranquillamente senza che ci fossero fenomeni erosivi. Ci sono due ragazzi lì in moto che passano senza che ci siano problemi di altro tipo. Questo è il manufatto visto da Monte. Poi c'è una serie di diapositive che fanno vedere quelle che sono le opere complementari legate a questo manufatto del Secchia. Questa è una difesa a Monte in corrispondenza del manufatto principale. Questo è il sistema di scarico della cassa. Cioè la protezione dello scarico della cassa con una gratta posta anteriormente per evitare che il materiale trasportato potesse in qualche maniera determinare l'occlusione dello scarico della cassa. Questo qui non si vede benissimo è lo sfioratore. Lo sfioratore laterale che come si diceva è estremamente semplice come realizzazione a valle è semplicemente un materassoreno ricoperto con mastici e bituminoso non ha creato problemi. Se noi vediamo nella prossima diapositiva era stato realizzato, giusto se voi vedete qui, questa specie di piccolo gradino che avrebbe permesso come permette la possibilità di modificare le caratteristiche di ingressione semplicemente togliendo o alzando quello che è questo piccolo sfioro. Tutto il sistema come si diceva è un sistema assolutamente automatico e quindi non c'è nessuno che nel momento della piena deve prendere decisioni particolari dal punto di vista dell'assetto idraulico del sistema. Questo è uno dei problemi che ci era stato posto sia dal magistrato del POC che dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici era quello relativo al rischio che le POC potessero essere interessate e encluse per la presenza del materiale che durante le pieghe viene flottato lungo il corso d'acqua. Fu realizzato questo monte di rubiera, questa specie di briga selettiva, questo pettine che ha funzionato direi egregiamente il problema al solito è quello che c'è bisogno di manutenzione anche di queste opere quindi probabilmente anche dopo l'ultima piena ci sarà da ripulire perché questo è un pettine che evita ovviamente a valle il trasporto di materiale ma qui c'erano le condizioni anche abbastanza favorevole per realizzarlo perché come vedete c'è un aureo che era largo più di 200 metri e quindi il rischio di aggiramento non si presentava cioè il materiale si ferma lì e l'acqua tracima come l'avete subito. Questa non è bellissima, è comunque un'immagine attuale della cassa all'interno dove l'affionamento della falda fa sì che si siano create quelle condizioni ambientali per cui si è creato poi il parco del segno che ormai tutti conoscete. Io terminerò in questo punto e eventualmente se mi ingegno a l'atti volesse concludere l'esposizione. Grazie a queste opere. Volevo ricordare l'iniziativa del sindaco di Modena di allora Germano Bungarelli dell'assessore regionale Giovanni Romagnoli del prefetto di allora Sparno tutte persone in perfetta sintonia lavorarono perché queste cose venissero realizzate insieme a tutti i parlamentari modenesi non li posso ricordare tutti, non li ricordo proprio ma poi erano tanti ma lavorarono tutti insieme per ottenere i risultati e per ottenere la promulgazione e il finanziamento della legge nel tempo di pochi mesi cose oggi assolutamente impensabili e allora si obbedebbiano perché c'era un'assoluta unità di tempi e una volontà di un una volontà che non so come definire di perco, insomma, per risolvere i problemi. Quindi a queste persone odiamo tutti e le popolazioni modenese i modenesi in particolare teppono ma particolare riconoscente. E poi volevo leggere le parole alcune delle parole conclusive della relazione De Marchi le ho citate prima concettualmente lasciatevele leggere scriveva De Marchi il problema della difesa idraulica del suolo ammette solo progressivi miglioramenti della situazione preesistente intesi a diminuire la frequenza e la gravità dei dissesti a titolo di precisazione della reale sostanza del problema conviene aggiungere che l'attività intesa a questo scopo rientrano nel quadro di un'opera senza fine che fu iniziata in tempi molto lontani e che deve proseguire senza interruzioni e senza discontinuità se si vuole conferire e soprattutto mantenere al territorio nazionale un'assenza adeguato alle esigenze della popolazione che vi è insediata e con il principale intento di assicurare l'incolumità delle persone abbiamo detto opera senza fine perché l'ambiente nel quale si deve operare è stato e sarà sempre soggetto a continua evoluzione non solo sotto l'influenza degli agenti atmosferici e delle eventuali possibili variazioni climatiche ma anche per effetto o in conseguenza delle azioni antropiche che in tempi recenti hanno assunto vastità imprevedute e importanza determinante in una serie di campi siamo alla fine degli anni Sessanta figuriamoci oggi a quarant'anni in istante nella sostanza l'opera di sistemazione e difesa è destinata a svilupparsi anziché in un ambiente stabile e statico come si ritiene altra parte della pubblica opinione in un ambiente in continua evoluzione accelerata in tempi recenti dall'azione dell'uomo e con questo finito è grazie 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 ingegnere vorrei rassicurarla anche del fatto che credo la realtà modenese la provincia e i comuni che sono interessati faranno tesoro anche dell'esperienza del Consorzio della Cassa di Espansione del Secchia anche per il progetto che oggi tra l'altro va rappresentato su l'idea o non il progetto l'idea ma un progetto per il parco della Cassa di Espansione del Panale prima di dare la parola all'ingegnere Reali la parola al sindaco come dicevo di Modena dicevo all'inizio era previsto il suo saluto ma credo che arrivi anche appropriato perché mi pare che il sindaco abbia da interlocuire con l'ingegnere Reali no, buongiorno a tutti io chiedo scusa ma avevamo preannunciato che insieme con l'assessore Cocchi il dono di Luguitano ce l'abbiamo e dovevamo presentare insieme anche un'altra importante iniziativa che si stava svolgendo in contemporanea città io sono molto lieto di intervenire oggi a questo momento questo momento seminariare di riflessione e anche di bilancio credo che possa essere tra questo bilancio di grande soddisfazione per il risultato che completa un lavoro che iniziò a metà degli anni 70 in cui ha impiegato tutto questo tempo per arrivare alla sua sistematizzazione mi ha però agevolato nella riflessione che vorrei fare l'intervento degli ingegneri Reali che secondo me ha utilmente sottolineato due aspetti e cioè il primo che bisogna fare tesoro dell'esperienza e non abbassare la tensione dell'impegno circa la necessità di presidiare sistematicamente quelle che sono delle condizioni di rischio idraulico che in qualche modo sono condaturate e strutturali a un territorio a una fibrocena di un territorio come quello che ho detto e questa riflessione questo punto è per me preziosa perché io vorrei come devo dire vi rubo solo pochissimi istanti io non vorrei neanche sembrare un guastafeste nel senso che io sono tra quelli che considerano di straordinaria importanza il risultato che oggi si sancisce e tuttavia siccome questo è un seminario e noi dobbiamo ragionare come devo dire sulla storia ma anche sul presente credo che questa possa essere anche un'occasione utile per approfittare anche per sottolineare alcuni elementi noi abbiamo certo sono passati molti anni questo territorio ha avuto un grande beneficio dagli interventi infrastrutturali che sono stati realizzati è vero però che c'è stata una fase di grande tensione realitativa in cui c'è stato un periodo come devo dire un po' di avventamento ed è vero ancora una cosa che pur in presenza di una decisionazione quella che si completò alla fine degli anni 80 sulla nuova criteri nuovi principi sulla difesa del suono io credo che siccome nel corso degli anni 90 abbiamo potuto verificare insistentemente e frequentemente a livello nazionale ma anche sul nostro territorio situazioni come devo dire di tensione di criticità fino alle ultime apprezzioni qualche settimana fa che ci hanno visto tenere in fiato sospeso per un paio di giorni e anche contare come al solito qualche conseguenza non piacevole io credo che insomma sia legittimo interrogarsi se la situazione che questo nuovo sistema delle competenze così come è stato delineato ci consegna è quello più appropriato per garantire il massimo di efficiente e di efficacia degli interventi se davvero i meccanismi di stanziamento di erogazione dei finanziamenti anche se ovviamente ci sono le nuove legislazioni una bassa linea uno sforzo di semplificazione se sono però adeguati alle necessità di oggi o non continuano a essere eccessivamente centralistici e buro per i dati se come devo dire non continuiamo a seguire uno schema che è quello dell'approccio degli interventi urgenti dopo che si sono verificati degli eventi di criticità e non invece assumere uno sforzo di pianificazione più sistematizzato sugli interventi di tipo preventivo e ultimo se in una stagione che tutti dicono essere di federalismo ma che poi di federalismo ha avuto poco non sarebbe come devo dire necessario uno spustamento più in periferia dei poteri decisionali sulle priorità e sui bisogni a cui bisogna dare risposte io lo so che le quattro risposte a queste quattro domande è che sì bisognerebbe far così in realtà però non è quello che succede in quotidiana però questo ci consegna una situazione come devo dire che continua a mantenere uno stato di allerta almeno con riferimento al territorio di queste zone e se mi permettete un riferimento specifico in particolare al territorio dell'economia vorrei insisto vorrei essere non frainteso io credo che oggi sia una giornata di festa e che debba essere sottolineato un straordinario risultato conseguito dal sistema istituzionale di questi territori e più complessivamente dalla capacità di programmazione e pianificazione e intervento delle diverse competenze che sono entrate in gioco e abbiamo potuto vedere anche dalla rappresentazione quanta originalità e come devo dire creatività progettuale della sperimentazione di motivi innovativi di interventi non è questa la discussione dico però che noi abbiamo bisogno di tenere forte un profilo di impegno e di attenzione perché se possiamo segnare all'attivo questo risultato ci sono delle situazioni di fragilità del sistema ideografico in particolare per quanto si riferisce al sistema ideografico minore che continuano a rappresentare dei punti di sofferenza e nel corso di questi anni noi abbiamo avuto anche frequentemente situazioni che hanno poi determinato disagi siccome il territorio è quello adottorizzato che sappiamo le zone periubane sono quelle poi ancora maggiormente condottate da presenti di attività elementi che hanno effettivamente portato situazioni non voglio traumatizzare ma situazioni di criticità di apprezzione di qualità allora non è che ci manca la capacità di comprendere ciò che bisogna fare ciò che bisogna fare è una manutenzione sistematica dei copri idrici dei copri idrici minori una pianificazione una programmazione molto attenta molto sistematizzata e così pure non ci mancano neanche gli interventi progettuali per esempio con riferimento a canale da vigno ad altre situazioni che possano in qualche modo ridurre ulteriori condizioni di complicato quello che spesso succede è che purtroppo e le manutenzioni si fanno con il stato di necessità per carenza di fondi non lo sto facendo sto registrando situazioni obiettivi anche gli interventi già progettati si realizzano però con con l'affanno e con la dilatatura temporale diciamo così dei finanziamenti che arrivano non con la scorre momenta che sarebbe opportuna per cui anche il beneficio è un beneficio sempre differito cioè è un beneficio atteso non è un beneficio conseguito una volta io penso che questo è un problema forse dico un'obvietà constato una situazione di fatto registro però che costituisce un punto di vulnerabilità tuttora persistente sul nostro territorio sappiamo tutti che sarebbe meglio prevenire che non intervenire a monte perché se non ricordo male solo sul territorio della nostra provincia una serie di eventi nel corso degli anni 90 hanno determinato danni per oltre 60 miliardi che sono certamente di più di quello che sarebbe forse stato necessario per ottimizzare una serie di situazioni ma questo forse io ho fatto questo ragionamento per vivo la cosa le leggi non competono tutti a noi la definizione delle migliori competenti non competono forse soltanto a noi quindi non possiamo solo chiedere e attendere che si rende certo la responsabilità istituzionale politica come la storia ci insegna e i riferimenti al sindaco Bugliarelli ad altre personalità politiche è che se si spinge se si lavora in sinergia si ottengono anche dei risultati e si smuovono anche pezzi di mantagni nella direzione giusta io penso però che da tutto questo insieme di ragionamento ed è la conclusione che vorrei trarre ci sia un elemento su cui come devo dire qui e ora è possibile che noi possiamo fare qualcosa ed è nella situazione data fermo mi stanno perché io auspico che è una situazione di ignomi e come finanziamenti e come definizione delle competenti però nella situazione data noi dobbiamo come devo dire praticare il federalismo con una capacità di iniziativa volontaristica e con un senso di responsabilità reciproco e collettivo delle nostre istituzioni cioè esaltare e rafforzare e sviluppare ulteriormente una capacità di concertazione di coordinamento di pianificazione che muova dalla lettura delle criticità del territorio e che ottimini come devo dire le risorse contingentate che ci sono e gli sforzi e le possibilità operative anche se limitate che ci sono è una chiave come devo dire è uno stile è un approccio che io sento fortemente necessario se vogliamo creare le condizioni per ridurre ulteriormente quella situazione di criticità e di area di rischio che continua a permanere sull'assetto idrografico del territorio modenese e del territorio provinciale con particolare riferimento ai corpi minori in attesa che poi ci siano politiche e come devo dire strumentazioni più in grado di alterare definitivamente condizioni diciamo così di criticità che il territorio ancora conosce credo che in questo sforzo di concertazione di impegno reciproco sono le cose che ci siamo detti anche a seguito voglio dire degli eventi di quest'ultima settimana però forse anche qui dovremmo cercare di mettere a punto un sistema di relazioni e una capacità di relazione e di sviluppo di capacità collaborative più sistematiche e anche meno necessitate in qualche modo condizionate dalle situazioni di criticità e di emergenza io sento che questa è una risposta che l'insieme delle istituzioni sul territorio può dare chiedo che ci sia come sono convinto che ci potrà essere il massimo di disponibilità e di collaborazione e che attorno a questo modo di lavorare riusciamo a costruire anche una capacità di incidere positivamente con esperienze di tipo problematico perché cambino anche la definizione diciamo così del sistema dei poteri e la selezione degli interventi e delle priorità perché si possa davvero conseguire dei risultati che ci mettono definitivamente a riparo da quegli eventi e da quelle situazioni che troppo frequentemente si proporrono sul nostro territorio grazie 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 grazie